Ciao Stefano, per l'abbinamento di oggi ho portato uno dei tuoi preferiti, che è anche uno dei miei preferiti, il Dabin. È un Moscato Rosa Passito, il nostro Moscato Rosa Passito della linea Castelfirmia. Moscato Rosa è un'uva piuttosto rara, che trova spazio praticamente solo in Trentino. È particolarmente difficile da coltivare, è ancora più complessa da venificare, ma quando riesce abbiamo un prodotto che è veramente eccellente. Ha il colore un rosso rubino, piuttosto intenso. Il naso esprime un'aromaticità pazzesca, emergono queste note proprio di fiore, di rosa, emergono note di piccoli frutti rossi, di bosco piacevoli, un po' di confettura, di marmellata, veramente un naso ricco e piacevole. Al sorso il gusto è piacevolmente dolce, ma non stucchevole. C'è una grandissima acidità che lo slancia e permette di apprezzare tutta la bottiglia senza rimanerne appesantiti. Piacevolissimi sapori che rimangono. Agrumi, fiori di frutta, giocano al palato con una grandissima persistenza. Rimangono molto a lungo. Da bene, perfetto. Bevuto a una temperatura anche di 10-12 gradi centigradi, ma apprezzarlo anche un pochino più fresco non farà di certo male. Ottimo se lasciato respirare un 10 minuti prima di metterlo nel calice. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo abbinamento.